Benvenuti a tutti. Oggi affrontiamo il difficilissimo tema del welfare, soprattutto dalla regione di cui la maggior parte di noi vi parlano, cioè la Lombardia. Abbiamo pensato di fare un piccolo approfondimento e abbiamo dato il titolo a questa giornata, a proposito di welfare, assistenza e benessere, approfondimento sui nuovi orientamenti di sanità, autosufficienza e autonomia regionale. Sarà un pomeriggio intensissimo, io farò la moderatrice cattivissima, avrete 20 minuti ciascuna per raccontarci un po' dell'argomento che abbiamo concordato e sarà sicuramente molto interessante e sarà difficilissimo stare nei 20 minuti. Mi rendo conto che quando affrontiamo questi problemi abbiamo sempre bisogno di molto tempo per spiegare. Vi chiedo appunto di rimanere nei 20 minuti e nel caso ci ritroveremo un altro momento per fare un ulteriore approfondimento se servono degli affondi maggiori. Quindi niente, auguro a tutti e a tutti buon lavoro e do la parola a Nicoletta Pirotta per un'introduzione sull'Associazione IFE che appunto sta patrocinando questo pomeriggio. grazie Nicoletta. Sì grazie a te, grazie a voi. Allora intanto siccome non tutti conoscono IFE Italia mi consentirete di rubare qualche minuto per dire chi siamo velocissimamente. Intanto vi voglio dire questo, IFE Italia in questo momento è in una fase di ristrutturazione. Alcune hanno abbandonato, altre hanno lasciato, altre si sono messe per il momento ai margini e quindi alcune di noi che hanno amato definirsi le irriducibili hanno comunque deciso di continuare il lavoro di questa associazione che non è mai stata di massa ma che comunque ha mantenuto il suo status di associazione femminista o comunque di luogo di riflessione e pratica femminista e quindi di continuare, di continuare questo lavoro mantenendo i tre aspetti che noi giudichiamo irrinunciabili. Il primo aspetto è la lettura intersezionale in sintonia con quella che è la nuova ondata del femminismo odierno, in particolare quello di non una di meno e quindi di leggere il mondo utilizzando le categorie di genere, di classe e di razza. Convinte, come ha detto Angela Davis che rimane una nostra maestra di pensiero, che il femminismo deve portare alla consapevolezza di quel che il capitalismo è e che bisogna fare attenzione da femministe a non fare anche nostro malgrado da ancelle al capitalismo o al patriarcato. Quindi utilizzare le categorie di classe, di razza e di genere sicuramente un po' aiuta. Il secondo aspetto è praticare la convergenza nonostante molte qui vengono da processi di convergenza che non sempre danno il meglio di sé, però noi crediamo che la pratica della convergenza con altre realtà femministe, ma anche con altre realtà che insieme a noi vorrebbero cambiare questo mondo o comunque immaginarlo possibile, appunto di praticare la convergenza, cioè la possibilità di incontrarsi su questioni fondanti e lavorare insieme e la terza parte è l'agire, l'attivismo femminista non solo dentro contesti femministi ma anche dentro contesti misti, anche perché noi come IFE Italia nasciamo ormai nel 2008 proprio come compagno e femministe che però lavoravano, agivano, si attivavano anche dentro contesti misti, partiti, sindacati, associazioni, reti, movimenti e quant'altro. Ecco, a partire da queste tre elementi fondanti abbiamo sempre ritenuto e continuiamo a ritenere il lavoro e il welfare un aspetto su cui il femminismo deve prestare particolarmente attenzione, in particolare il femminismo che vorremmo in qualche modo rappresentare, perché dal nostro punto di vista la libertà o meglio la liberazione delle donne non può che passare attraverso l'autonomia economica e quando si parla di economia economica si parla ovviamente di lavoro e quando si parla di lavoro delle donne non si può che parlare di welfare perché per una impropria e non uguale suddivisione dei compiti di cura e di riproduzione in particolare domestica il cibo cotto, i vestiti puliti, la casa sistemata, non egalmente diviso fra donne e uomini, spesso, per non parlare poi dei lavori di cura e di accudimento di bambini e anziani, spesso le donne sono costrette a scegliere fra casa e lavoro o di accettare per esempio il part time sul lavoro perché non possono fare diversamente. Quindi abbiamo sempre considerato il lavoro e il welfare uno dei temi su cui riflettere e prestare particolare attenzione. Ecco, l'iniziativa di oggi che tengo a sottolineare sta dentro uno scenario mondiale particolarmente complesso e difficile, non solo per la crisi ambientale che produce devastazione e mette in crisi addirittura l'esistenza stessa del genere umano sulla terra perché la terra per fortuna continuerà a vivere anche dopo di noi, ma sta dentro scenari di guerra e anche in Italia in particolare di restaurazione conservatrice che ovviamente rendono ancora più complicato e complesso l'agire su questi temi, però noi crediamo che sia assolutamente necessario da femministe puntare lo sguardo sul tema del lavoro e del welfare. Non dico nulla su tutto il lavoro sul lavoro che abbiamo fatto come IFE perché non ne ho il tempo, per quanto riguarda il welfare volevo dirvi appunto che oggi è la continuazione di un lavoro che arriva ormai da da lungo tempo perché abbiamo voluto analizzare il welfare a partire da due considerazioni. Non ci interessava fermarci all'affermazione che ormai il welfare si è trasformato nel mercato dei servizi, ma volevamo capire perché questo era successo e quindi abbiamo fatto tutto un'analisi e uno studio, devo dire aiutate molto in questo caso, da Silvana Cesani che ha svolto per anni il ruolo di assessora alle politiche sociali del Comune di Lodi e anche di Anita, la quale anche lei ha svolto questo ruolo per alcuni anni nel suo comune. Ecco aiutati anche da queste nostre compagne siamo riusciti appunto ad approfondire questo tema verificando attraverso quali provvedimenti legislativi, scelte politiche, accordi anche di natura internazionale ed europea siamo arrivati alla fase di welfare odierna. Fase di welfare che si caratterizza come alcuni dicono per la costruzione del secondo welfare che si fonda su tre pilastri, l'welfare aziendale, l'welfare di comunità e l'welfare filantropico. Non posso entrare nel merito adesso di questi tre pilastri, dico solo che già il nome è indicatore del fatto che non siamo più di fronte a un welfare gestito e curato dai servizi pubblici veri e propri, quindi da Stato, Regioni e Comuni, ma siamo ovviamente in una fase nel quale il privato ha preso ormai il sopravvento. Tutti questi materiali di cui vi ho parlato, tutte le nostre elaborazioni, sono state raccolte grazie alla nostra amica e compagna Danila Baldo che ci ha dato l'input per usare quello strumento in un prezzi, cioè uno strumento virtuale di presentazione di materiali video e quant'altro nel quale abbiamo messo tutto quello che noi abbiamo elaborato. Il prezzi è già stato realizzato e dopo l'incontro di oggi che inseriremo verrà ovviamente diffuso. Oggi in particolare, dentro lo scenario di cui parlavo prima, vorremmo però ragionare su come incideranno su questo secondo welfare di cui vi ho appena accennato, alcuni provvedimenti o già approvati o in corso di approvazione che a nostro avviso mertono un'attenzione particolare. Il primo è l'autonomia differenziata perché è un progetto che inciderà moltissimo sul sistema di servizi alla persona e Giuliana Beltrame che fa parte del comitato no autonomia differenziata di Padova ed è compagna e amica con il quale abbiamo condiviso un percorso femminista di lunga durata, ci aiuterà a capire come è costruito questo progetto, quali sono gli elementi cardini e quali possibili ricadute. Il secondo provvedimento sul quale vogliamo ragionare è la legge regionale sulla sanità approvata, se non ricordo male, nel dicembre del 2021 e qui Antonio Muscolino di Medicina Democratica ci aiuterà a capire anche lì quali insidie si nascondono dentro una legge regionale lombarda che ricordo essere legge che in genere fa scuola. La Lombardia per quanto riguarda la sanità, fin dalla legge del 97 se non ricordo male, la numero 31 di Formigoni ha fatto scuola nel sistema sanitario, per cui sapere quali sono le ultime frontiere del sistema sanitario lombardo e delle leggi che riguardano questo sistema è molto utile e Antonio ci aiuterà. Silvia Cortesi, una compagna di IFE con la quale siamo contenti di aver cominciato a collaborare, ci racconterà invece del progetto sulla non autosufficienza che anche lì è gravido di insidie e di tranelli e ci spiegherà perché è necessario assolutamente firmare contro la sua approvazione. Io metterò fra poco in chat, come mi ha chiesto Silvia, tutto quel che riguarda appunto come diffondere, come firmare contro questa approvazione. E infine, siccome è nostra usanza come IFE Italia, e poi chiudo, non presentare solo gli aspetti critici, ma presentare anche i semi di speranza che ancora fanno credere possibile cambiare questo mondo, Silvana Cesani ci racconterà dell'esperienza che sta vivendo in prima persona in Comune di Como, come il centro di Lodi, in qualità di consigliera comunale con delega alla sanità e ci racconterà anche dell'esperienza della rete di solidarietà Lodi Solidale che sta vivendo l'esperienza di apertura di sportelli a favore dei livelli essenziali di assistenza e non come erroneamente scritto sulla nostra locandina di servizi verso la non autosufficienza, quindi soprattutto sui LEA. E quindi Silvana ci farà chiudere in bellezza, spero, perché ci darà l'esempio di un Comune virtuoso che riusciamo a fare questa cosa con Lodi, con il sistema di Lodi ho finito, perché a Lodi siamo, come in Fettaglia, siamo stati storicamente abbastanza radicate grazie alle compagnie lodigiane che costantemente lavorano per quello. Spero di essere stata esaustiva, ho già parlato anche troppo e ridò la parola. Grazie Anita. Grazie Nicoletta. Partiamo subito allora con Giuliana Beltrana del Comitato No Autonomia Differenziata di Padova. Grazie intanto Giuliana, chiedo anche a te di stare nei 20 minuti. Ecco, grazie a voi intanto di avermi invitata, ma soprattutto vi prego di segnalarmi o a gesti o mandando in chat qualcosa che mancano due minuti in modo tale che mi regoli. Allora, cercherò di inquadrare un po' questo tema dell'autonomia differenziata, perché in realtà anche se è dal 2019 che in qualche modo stiamo cercando di attivare l'attenzione su questo, finora c'è stata pochissima risposta in realtà e pochissima attenzione. Parlo del tentativo e degli incontri che abbiamo fatto a livello nazionale a Padova e nel Veneto, come sapete, siamo in buona compagnia con voi della Lombardia in questo disastro che è stato portato avanti. Allora, adesso pare che ci sia un po' più di interesse, per fortuna, e quindi vediamo di capire un po' meglio. Allora, l'autonomia differenziata non è una bestemmia nata così. È previsto dal 2001 della riforma del titolo quinto della Costituzione il potenziamento della possibilità per le regioni di chiedere ulteriori materie in cui possono decidere autonomamente. Ora, nell'organizzazione dello Stato ci sono due modelli, quello accentrato e quello decentrato. Quello decentrato, la Germania, la Spagna, eccetera. Quello accentrato, la Francia come esempio. E noi che abbiamo le regioni a statuto speciale, già previste al momento della formazione dello Stato dopo il fascismo, e le altre regioni a statuto ordinario. Ora, dalla riforma del 90, la riforma degli enti locali, è sempre stato dato maggior potere alle regioni, che erano delle illustri sconosciute e tutto sommato le regioni a statuto ordinario nel nostro paese. In un senso, esistevano tutti i carrozzoni dal 70, l'anno in cui li abbiamo eletti, ma poi non c'è stato fatto molto di più. Man mano il potere delle regioni è venuto sempre più rafforzandosi, marginalizzando in contemporanea il ruolo dei comuni. che in realtà dovrebbero essere invece gli enti più vicini alle cittadine e ai cittadini, e quindi più importanti dal punto di vista proprio della gestione dello Stato e dei bisogni. La riforma del 2001 è stata fatta dal centro-sinistra, cercando in questo modo di rincorrere la Lega che parlava di secessionismo, se vi ricordate. E quindi il tentativo, come al solito, che hanno fatto tutti i governi di centro-sinistra non è stato di opporsi in maniera chiara rilanciando potere reale e decentrato, ma di rincorrere quello che la destra stava facendo. e la Lega, con il discorso del secessionismo del Nord, stava esattamente facendo questo. L'approvazione delle due riforme annunciate, cioè l'autonomia differenziata e, ancora più pericoloso, il presidenzialismo, ci porterebbe a un'altra Repubblica, a una Repubblica diversa da quella disegnata dalla Costituzione. L'articolo 116, al terzo comma, fa parte di una carta costituzionale che delinea un modello solidale di regionalismo. Se invece lasciamo spazio a un'attuazione dell'articolo sempre 116 in una prospettiva competitiva come lo vuol portare avanti il progetto di autonomia differenziata, non si tradisce solo lo spirito ma anche la lettera della Costituzione. Allora, che cosa sta succedendo adesso? Perché il decreto Calderoli è stato fatto proprio dal Consiglio dei Ministri e quindi la situazione dopo la riforma del 2001 si è ulteriormente aggravata con le preintese firmate da Gentiloni. Altro governo di centro-sinistra nel 2018, con le pretese delle tre regioni richiedenti, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, che ha cercato di salvarsi l'anima chiedendo meno materie rispetto a Veneto e Lombardia, ma sposando ancora una volta esattamente la stessa ottica delle altre due regioni. Oggi ci troviamo davanti a un crescente sovranismo regionale, addirittura ormai è entrata nella vulgata comune il fatto di chiamare i presidenti di regione governatori, sintomo di ignoranza da parte dei giornalisti, della stampa, dei politici che parlano di governatori, ma anche di preoccupante stravolgimento della realtà. A fronte di questo c'è una drammatica mancanza di incisività dell'azione dello Stato. Il governo attuale non farà altro che aggravare questa situazione perché pur nelle contraddizioni che l'autonomia differenziata scatena preverrà sempre l'interesse di mantenersi a galla e quindi colpo al cerchio e un colpo alla botte e l'affossamento dell'idea proprio di Stato solidale nata con la Costituzione. Allora, vediamo a che punto sono, vado veloce. La cosa incredibile è che le decisioni su questa scelta non sono affidate al Parlamento, ma sono affidate ad una cabina di regia sostenuta da un comitato tecnico che deve operare in tempi contingentati. Il nuovo Stato sociale, cioè, sarà definito fuori dal circuito politico rappresentativo e questa è di una gravità enorme dal punto di vista proprio anche giuridico. In questo progetto Calderoli è saltato il criterio dell'interesse regionale o specificità territoriale nella richiesta delle materie di competenza esclusiva perché si diceva, anche nella riforma del titolo quinto, che deve esserci le competenze in più che le regioni richiedono, devono essere legate alla specificità di bisogno o di realtà che il territorio regionale presenta. Chiedere tutte le 23 materie vuol dire passare sopra qualsiasi criterio, diciamo, di specificità regionale. La questione dei livelli essenziali di prestazione, altro bel problema che ci troviamo ad affrontare. Un'applicazione seria dei livelli essenziali di prestazione richiede una distribuzione di risorse pubbliche nei confronti delle situazioni svantaggiate, in modo tale da garantire quel livello comune di prestazioni perlomeno essenziali. Oggi la previsione di crescita del paese non sono tali da pensare a un incremento di spesa per un riequilibrio territoriale che non è neppure previsto, tra l'altro. In più, i LEP già presenti nella riforma del 2001 non sono stati attuati per vent'anni. Adesso me lo dica qualcuno se avremo possibilità che vengano attuati. In più, nella legge di bilancio, il governo attuale ha stabilito che prima di procedere alle intese bisogna definire i LEP. Ma a mio avviso si tratta di uno specchietto per le allodole perché la legge finanziaria, tra l'altro la riforma è stata inserita in maniera totalmente scorretta all'interno della legge finanziaria, stabilisce che, e vi leggo, espressamente che si dovrà comunque operare nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e quindi che non ci può essere varianza nella finanza. Bisogna procedere con una clausola di invarianza finanziaria. Quindi i fabbisogni standard di ogni ambito territoriale in base a popolazione, infrastrutture, eccetera, personale, efficienza dei servizi, saranno privi di qualsiasi effettività. in più saranno emanati con un decreto del Presidente del Consiglio, cioè un atto amministrativo. Questa situazione che in cui saranno i decreti del Presidente del Consiglio a definire i LEP, di cui decreto ai responsabili il Presidente del Consiglio, non saranno una legge che spetta al Parlamento varare. Quindi sono atti amministrativi. Il Parlamento, che è competente in via esclusiva sui diritti civili e sociali, è tagliato fuori da tutto il percorso. Pensate, gli sono riservati solo un parere sui decreti preparati della cabina di regia, un atto di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare e una delibera sull'intesa definitiva, non una legge. Parlamento ridotto a organo amministrativo. Si sta pensando di ridefinire lo Stato sociale, quindi tutto quello che riguarda la sfera dei diritti, per i prossimi anni, passando da un modello di società ad un altro, senza che ci sia un'azione che coinvolga il Parlamento. Sicurarsi se si pensa di coinvolgere noi cittadine e cittadini, cioè la società civile, promuovendo un dibattito, infatti non se ne parla. Si procede per altre strade. Il salto, il discorso del residuo fiscale eventualmente lo riprendiamo dopo. Sono interessate quindi le leve fondamentali che il Costituente ha messo a disposizione del legislatore. L'uguaglianza in senso sostanziale, oltre che in senso formale, salta. E' questa la cosa preoccupante. Per cui non è solo una questione le regioni ricche contro le regioni povere, è proprio una questione concettuale di diritti sociali fondamentali. garantiti da una Costituzione che è solidale e che saltano. E questa è la cosa più drammatica. Come dice l'ultimo comunicato che abbiamo fatto nella riunione del 2 febbraio, non è più il momento delle parole, né si può continuare a parlare di una presunta altra autonomia differenziata possibile, la cui evocazione continua, Bonaccini-Docet, non ha fatto altro che contribuire a portarci al punto gravissimo di oggi. L'autonomia differenziata che abbiamo di fronte è quella di Calderoli e nessun'altra tertium non datur. E di questo dobbiamo tener conto. Ci sono stata nei tempi? Bravissima, ne sono avanzati, te li regalerò dopo se ci sono delle domande. Va bene. Passiamo ora, ritorniamo con un salto in Regione Lombardia e chiedo ad Antonio Muscolino di Medicina Democratica di aiutarci appunto ad avere un occhio critico sulla legge che prima citava Nicoletta del dicembre del 21. è una legge in materia di sanità e sistema sociosanitario. Grazie Antonio, anche a te 20 minuti. Sì, grazie. Allora, ti chiedo dopo un quarto d'ora di spuntare sullo schermo parlando in modo tale da dirmi che mancano 5 minuti io almeno riesco a risolvere il tutto perché avevo fatto delle slide che volevo riprendere e magari è più semplice per me e anche per voi per seguire. Allora, un attimo che adesso condivido. Ditemi se vedete. Vedete lo schermo? Ok. Allora, appunto, è ora, soprattutto dopo il periodo elettorale. Allora, partiamo sempre da questa slide che è la situazione del bilancio totale regionale. Allora, come vedete, la sanità prende quella fetta azzurra di questo programma e fa vedere quanto la sanità pesa sul bilancio regionale nel 2023, come per tutti gli anni, sia in regione Lombardia che per le altre regioni. Tutto il resto, le altre politiche, sono ovviamente l'altro pezzettino che rimane, per cui ci aggiriamo su una quota che supera abbondantemente i tre quarti del bilancio. Secondo le regole del 2023 che sono state emanate alla fine dell'anno scorso, si dice chiaramente qual è la parte economica. Si parla praticamente di circa 21 miliardi di euro, considerando tutti gli aspetti economici sia dal Fondo Sanitario Nazionale sia anche da altre fonti, diciamo così, interne alla regione Lombardia. Allora, tutto questo chiaramente deve essere letto all'interno di quella che è stato, appunto che è il nuovo quadro. Il nuovo quadro è praticamente dato dalla legge 22 del 2021, che poi di fatto è andata a modificare la legge regionale sanitaria che è la 33 del 2009. In particolar modo volevo evidenziare alcuni aspetti andando proprio a leggere questi articoli. Nell'articolo 2 si riporta ancora l'idea della scelta libera consapevole e responsabile dei cittadini. Ovviamente scelta libera sappiamo benissimo cosa significa. Significa se tu hai soldi in questo momento puoi comunque avere nei tempi disponibili e le prestazioni che ti sono richieste, se no la tua scelta sarà esclusivamente quella di aspettare se riesci a farla, cioè se riesci a aspettare. Il punto, diciamo così, chiave di tutta questa riforma invece è quello che si legge in contemporanea nella lettera Bbis e Bquinquies, ripeto dell'articolo 2, cioè dei principi. L'equivalenza è l'integrazione del pubblico e del privato, dell'assistenza pubblica e privata accreditata, garantendo la parità di diritti e obblighi, insieme al Bquinquies. Perché? Perché nel Bquinquies dicono in maniera tecnica che cosa significa questa equivalenza. L'equivalenza è data dalla definizione del case mix, cioè dalla definizione dell'offerta che viene data appunto alle persone da parte delle varie ATS, con conseguente allocazione del budget, cioè dei soldi che verranno dati, soldi pubblici che verranno dati alle realtà accreditate e che sottoscriveranno chiaramente il contratto, più che anche contrattualizzate. Ovviamente loro dicono sulla base di prioritari obiettivi di salute in coerenza con i diritti di programmazione definiti dalla regione che, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, anche perché immediatamente dopo si legge in maniera chiara qual è il nucleo e nel rispetto della struttura d'offerta di ciascun inerogatore e degli investimenti effettuati. Per cui, diciamo, qui ci sta proprio la novità grossa. Allora, si fa in modo che ci sia l'equivalenza tra pubblico e privato e la suddivisione di quella fetta che abbiamo visto all'inizio viene fatta sulla base degli investimenti effettuati, ovviamente con un occhio ben chiaro per quanto riguarda la realtà privata. Sempre nell'articolo due principi viene ribadita la separazione delle funzioni di programmazione a cui si controlla, per cui diciamo viene ribadito quello che tecnicamente si chiama il quasi mercato, cioè in pratica la possibilità che il pubblico faccia esclusivamente da regia, da questo punto di vista, anche se in parte adesso chiaramente essendoci comunque le SST, una parte della produzione è ancora pubblica. e poi per quanto riguarda la promozione della partecipazione, cioè uno degli elementi fondamentali, cioè la partecipazione delle persone, viene ridotta in pratica nel fatto di avere delle indicazioni sui corretti stili di vita, nei percorsi di prevenzione, cura e iniziative che favoriscano l'invecchiamento attivo. Allora io qui avevo inserito due slide, vado molto veloce per le questioni del tempo, erano due slide che richiamavano quello che aveva detto qualche anno fa Michael Marmot, che è uno dei più importanti epidemiologi che esistono in tutto il mondo, e lui ricordava chiaramente che quando le persone si ammalano, hanno bisogno di accedere appunto a cure mediche di alta qualità, perché le cure mediche salvano la vita. Però uno degli elementi fondamentali sono anche le condizioni sociali che hanno determinato appunto sia la malattia che anche l'accesso o il non accesso alle cure mediche. Lui riportava questi due decaloghi sotto l'indicazione di chi è la responsabilità. Da una parte, nella parte destra, sono praticamente il decalogo che più o meno sappiamo tutti, insomma, di non fumare, di fare una vita attiva, eccetera, eccetera. E da altra parte un decalogo che è stato, diciamo così, revisionato dall'Università di Berkeley, che andava a sottolineare invece che forse i problemi erano di altra natura. In ogni caso, sia l'uno che l'altro, sono due decaloghi che sono assolutamente fondamentali per poter capire che cosa significa la partecipazione e anche la promozione a politiche sanitarie e attive. L'altro elemento riguarda, sempre per i principi, la sostenibilità orizzontale per garantire la pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti. E poi la promozione, la sperimentazione e la partecipazione nel volontariato. Ecco, questo è uno degli elementi sui quali magari bisognerebbe discutere anche fra di noi e cercare di capire quali vie potrebbero, diciamo così, aprirsi all'interno di questa cosa. Avevo poi sottolineato l'altro punto che è l'N sexiest, perché questo articolo è enorme, dove si dice appunto in maniera chiara che diventa tra i principi la promozione della corroborazione tra il servizio sanitario regionale e il sistema produttivo con particolare riferimento welfare aziendale, per cui sottolineano per legge anche questo elemento. Volevo evidenziare anche l'articolo 5 nelle funzioni della regione, dove alla lettera L si dice che la regione stabilisce volumi e tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, per cui in pratica definisce quello che veniva detto prima nell'articolo 2 in maniera più tecnica. Per quanto riguarda le ASST, come voi sapete le novità sono soprattutto quelle relative alle case di comunità e agli ospedali di comunità, per cui l'articolo 7 dice appunto che il settore del polo territoriale della SST spetta l'erogazione delle prestazioni distrettuali e a tale settore riferiscono gli ospedali di comunità previsti dal piano nazionale delle riprese di resilienza, le case di comunità e le centrale operative, le COT, previste dal PNRR. In un articolo immediatamente successivo al punto 2 bis si dice che i soggetti erogatori, si parla di strutture private accreditate, i soggetti erogatori di cui è il comma 1 appunto le strutture private accreditate possono concorrere all'istituzione dei presidi di quell'articolo 7 che è quello che ho riportato prima, per cui di fatto si dice in maniera chiara all'interno della legge che le strutture private accreditate possono aprire case di comunità, ospedali di comunità e entrare in tutta quella partita. Ricordo che quello che è successo con il Covid è appunto dovuto in gran parte al fatto che sul territorio non esisteva nulla. Le case di comunità potevano essere uno dei punti fondamentali perché dovevano avere quello che era una visione generale della salute sul territorio. E' chiaro che far entrare le strutture private significa soltanto farle entrare nella suddivisione dei fondi del PNRR che sono quelli che sono utilizzati appunto per queste cose che possono di fatto solo strutture. Allora, questa cosa è una cosa abbastanza che prende via già nei mesi precedenti. Questa è quello che scriveva l'ATS di Milano nel presentare, è stata la prima presentazione di quello che si intendeva come casa di comunità. Ecco, qui dentro loro dicevano chiaramente che bisognava comunque preventivare una collaborazione pubblico privato dove si diceva appunto che il risorso del PNRR mette a disposizione dei fondi che sono chiaramente a disposizione solo per le aziende sanitarie pubbliche, unico e possibile destinatare dei fondi, però, dice subito dopo, insomma che all'interno di questa cosa può anche essere prevista, perché no, la possibilità che possano inserirsi anche delle realtà private all'interno di un modello del servizio sanitario regionale sussidiario. Appunto, va quindi approfondita la possibilità di realizzare strutture che svolgono le medesime funzioni previste dalle case di comunità ospede di comunità ma gestite da erogatori privati accreditati e di attivare forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati nella conduzione di tali strutture. In più, si spostano anche più avanti dicendo che, sempre nello stesso documento, che è possibile prospettare finora diverse forme di collaborazione per cui sperimentazioni gestionali, progetti di partenariato pubblico privato e dicono chiaramente che in questi casi gli investimenti rischio di previsione generale, bontà loro, sarà delle strutture a cui verranno fidati al gestore privato e infine è possibile prospettare addirittura forme di collaborazione pubblico privato all'interno di una conduzione pubblica dove addirittura parte dei servizi amministrativi e sanitari possono essere affidati tramite procedura di evidenza pubblica e ci mancherebbe a soggetti privati pur mantenendo l'ente pubblico la responsabilità di gestione. Allora, io mi chiedo, il pubblico diventa di fatto semplicemente un simulacro di tutto questo ambiente. In mezzo a tutta questa storia c'è poi il DM77, che è il decreto ministeriale che ha poi approvato i modelli standard per le case comunità e ospedale delle comunità, che purtroppo non va molto a modificare il tutto. Anche perché comunque, come leggete, negli standard organizzativi si parla di casa di comunità hub ogni 40-50 mila abitanti, per cui, insomma, una popolazione direi abbastanza importante. Consideriamo che le case della salute, da cui teoricamente questa cosa sarebbe partita, che disegnava Macacaro, parlava al massimo di 5 mila abitanti, perché appunto devono rispondere a quelli che sono i problemi territoriali. Diciamo così, a legare poi il tutto con tutto quello che ho detto prima, c'è anche tutta la questione della privatizzazione. Ecco, ultimamente IOP Lombardia, vedete, questa è una comunicazione del 15 febbraio su quotidiano sanità, sta facendo una campagna enorme, per cui chiedendo appunto che il privato creditato sia interlocutore strategico e rafforzata la sussidiarietà. Io ricordo che la questione della privatizzazione dell'ingresso ai privati è uno dei problemi maggiori, perché di fatto è in atto, come diciamo tra di noi, un processo di accumulazione capitalistica nel settore sanitario, sociale e del welfare, perché si stanno creando proprio dei grossi centri internazionali che stanno cercando di comprare tutto ciò che rientra all'interno della fornitura di servizi sanitari. Qui, vabbè, avevo ripreso un'altra posizione sempre dell'IOP del 21 febbraio, dove praticamente la direttrice, sempre IOP, sottolinea il fatto che non si può disegnare il privato soltanto come realtà interessata al patrimonio, cioè all'utile. Quindi mi chiedo chiaramente per che cosa entrano all'interno della realtà sanitaria. Allora, relativamente alle case comunità, che io credo siano uno dei punti più interessanti, importanti che anche noi dovremmo approfondire, io ho sempre detto personalmente che in tutta questa partita devono avere un punto fondamentale i comuni, perché i comuni con i sindaci dovrebbero rientrare a parlare, insomma, e a dire la loro sulla salute sul territorio. Ecco, certo che se i comuni parlano in questa maniera, come è successo a Castellanza, insomma, bisogna senza dubbio tenere d'occhio la situazione. Bisogna tenere d'occhio la situazione perché, come vedete, la cosa fondamentale sembra che comunque si dia la possibilità ai cittadini del proprio comune e solo del proprio comune, la possibilità di avere una serie di agevolazioni, tra l'altro mi chiedo di che genere, nel momento in cui si parla esclusivamente di prestazioni e non certo di elementi di salute in generale. C'è poi un altro problema che è quello dei medici a gettone. Questo è una cosa che avevo ripreso dalla Gavanelli che mi è sembrato molto interessante, appunto per sottolineare quello che sta accadendo. E' chiaro che anche questa cosa dei medici a gettone, cioè medici che in grossa parte escono dal pubblico per poi rientrare immediatamente magari nella stessa realtà pubblica, ma facendo parte di cooperative di medici, fa un po' il paio con quello che era avvenuto qualche anno prima anche con la questione dei cronici, con i gestori, non so se vi ricordate. Diciamo che le cooperative dei medici che sono diventate enormi in regione Lombardia e molto potenti partono proprio da lì, perché da lì hanno avuto, diciamo così, l'input per poter espandersi. Allora, purtroppo non posso farvi vedere altro, perché se no sforerei, volevo sottolineare soltanto un altro aspetto della privatizzazione, che è quello ad esempio della Sant'Agostino che addirittura cerca di privatizzare il medico di medicina generale, oppure quello della multimedica, come lo sapete, noi in Medicina Democratica abbiamo sollevato diversi problemi relativi al fatto che viene proposto nel momento in cui una persona richiede un appuntamento per una prestazione, ha anche la possibilità immediata di averla prima per entrarlo all'interno di un canale totalmente privato. C'è poi tutta la parte che secondo me è fondamentale, che è quella dei fondi sanitari e assicurazioni sanitari che sono legate alla questione del welfare aziendale. Ecco, purtroppo non posso, cioè non ho la possibilità di focalizzarmi per questioni di tempo, volevo soltanto farvi vedere queste due modalità. I fondi che ci sono ad oggi sono due fondi, quelli di tipo A o ex fondi DOC, che sono i fondi che praticamente sono effettivamente fondi sanitari, diciamo così, che danno a altri elementi che sono al di fuori dei LEA e quelli di tipologia B che invece fanno rientrare lì dentro anche tutte le prestazioni che sono previste nei LEA. Allora, come potete vedere, soltanto il 3% sono di tipo A e il resto sono tutti di tipo B, cioè significa che la maggior parte delle prestazioni che sono coperte dai fondi sanitari e assicurazioni sanitari sono di fatto sostitutivi nella gran parte e non integrativi, come vogliono farci credere. In questa partita però vedete che esistono già, questi sono dati del 2017, esistono già circa 11 milioni di persone che sono coperte, per cui siamo davvero a qualcosa che ci bussa alla porta e che è assolutamente importante tenere sotto controllo. Allora, volevo concludere con semplicemente su un che fare. Io credo che, allora, bisogna cercare di contrastare questo tipo di, appunto, questo tipo di elementi, la privatizzazione e soprattutto le coperture, le coperture, diciamo così, assicurative, anche quelle chiaramente previste dai contratti, semplicemente perché bisogna fare in modo che il sistema sanitario nazionale non perda due fondamentali caratteristiche che sono quelle della solidarietà e dell'universalismo e evitare anche che una volta che siano anche entrate queste realtà in maniera importante, qualcuno decida di fare l'opting out, per cui uscire definitivamente dal servizio sanitario per essere coperto soltanto da una assicurazione privata, perché questo significherebbe, chiaramente, un percorso doppio binario e una cancellazione di un diritto. Ci sono delle questioni, chiaramente, che è ovvio che abbiamo una difficoltà nel comunicare il pericolo alla maggior parte di persone, guarda caso, in Gran Bretagna e in Spagna, invece, ci sono delle grosse manifestazioni, probabilmente perché la cosa era stata gestita in maniera differente anche nel passato, e poi il pericolo della riduzione del pubblico ha solo la regia del mercato, per lasciare al privato e magari anche la mutualità generale, chiamiamola così, la gestione, per cui fare in modo che in pratica ci sia solo il privato che dia le prestazioni, punto e basta. La Bocconi sta ogni volta continuando a sottolineare questo aspetto. Lancio delle suggestioni. Si può pensare a un, chiamiamolo think tank, utilizzando, diciamo così, i metodi che vengono utilizzati dagli altri, popolare però, oppure pensare che, e io ci credo su questa cosa, che le case e le comunità possano essere un momento di mobilitazione locale, cioè dire funzionano, cosa c'è al loro interno, è possibile la partecipazione delle persone per vedere effettivamente, fare in modo che rispondano ai bisogni reali della salute. La finalità reale è la presa in carico basata su indicatori di salute, su determinanti sociali, ambientali e sanitari, oppure di altro modo. Chiaramente se sono private, non credo. E poi, questo lo riprendo ultimamente, semplicemente per ricordare questa cosa, ribadire il principio che il servizio sanitario è free at the point of access, come dicevano nel sistema sanitario inglese, contro l'idea della gratuità. Cosa significa? Significa questo, quello che già nel National Health Service, dicevano nel 1948, prima che partisse il tutto, dicendo che tu, noi, stiamo pagando per il servizio sanitario, come pagatori di tasse, insomma. E poi voi avrete indietro il tutto nel momento in cui sarete ammalati. Ecco, io credo che questa cosa debba essere ben specifica. Credo che sia stato un punto che non è stato fortemente sottolineato dalla nascita del servizio sanitario nazionale italiano. Cioè che la gratuità non è in realtà gratuità, ma tutti stiamo già pagando per quello. Per cui il fatto che io debba privatamente rispondere a delle cose che non mi vengono date, beh, questo è un elemento totalmente negativo che non può essere tollerato. Ecco, spero di essere stato abbastanza, spero di essere stato nei tempi ed essere stato abbastanza così. I tempi quasi perfetto, grazie Antonio. Invece la spiegazione è stata molto esaustiva e ha dato degli spunti molto interessanti rispetto anche alla gestione della sanità anche in altri paesi, per cui dovremmo anche magari pensare di organizzare un momento di approfondimento per capire appunto qual è la parte migliore di ciascun sistema e quali sono quelle che noi stiamo perdendo invece di un sistema che fino adesso abbiamo ritenuto anche molto molto valido, soprattutto rispetto ad altri sistemi tipo quello americano, dove queste attività sono già in maniera spropositata all'interno della società. Ormai sono una quotidianità, sono un'assicurazione, non può farsi curare anche banalmente in un brutto soccorso. Quindi direi che ci hai regalato degli spunti veramente interessanti. Passo subito la parola a Silvia Cortesi che ci racconta quello che diceva Nicoletta prima appunto perché opporsi all'approvazione del disegno di legge sulla non autosufficienza. Anche per te Silvia, 20 minuti, grazie. Sì, spero di starci dentro. Grazie. Allora, il 10 ottobre 2022 è stata approvata dal governo Draghi la bozza di disegno di legge delega sulla non autosufficienza, il cui titolo per esteso è schema di disegno di legge recante deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti. Il 19 gennaio 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del governo Meloni. Il disegno di legge è stato poi inviato alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2023 come numero 506. deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, d'ora in poi di dirle non autosufficienza. Si tratta di un testo inaccettabile per le persone malate non autosufficienti e le loro famiglie, un provvedimento che, se approvato, non concederà un solo nuovo diritto alle persone anziane malate, croniche, non autosufficienti e alle persone con disabilità grave ed anzi sottrarrà clamorosamente diritti a queste categorie di italiani e marginandole rispetto al servizio di cui hanno diritto gli altri cittadini in violazione della Costituzione. Il CDSA, coordinamento nazionale in difesa delle persone anziane malate non autosufficienti, ritiene che il DDL sulla non autosufficienza non risponde a quanto ci si aspettava sul tema della integrazione socio-sanitaria e della presa in carico sul versante sanitario e sociale di queste persone con diversi bisogni. In base alla normativa vigente, le persone malate croniche non autosufficienti e con demenza, compresa la malattia di Alzheimer, sono riconosciute come persone con bisogni sanitari e socio-sanitari. Una volta che si è certificata la loro condizione, è il Servizio Sanitario Nazionale che ha il dovere di prestare tutte le cure necessarie per tutto il tempo necessario, definite nei LEA. Il DDL, invece, il DDL sulla non autosufficienza, dimostra di non promuovere la prevenenza e competenza del Servizio Sanitario Nazionale a tutela delle persone malate non autosufficienti e delle loro famiglie. Non prevede nessun nuovo diritto a sostegno della domiciliarità per garantire le cure di cui hanno bisogno queste persone non autosufficienti, curate a casa per 24 ore ogni giorno. trascura le esigenze socio-sanitarie quotidiane di queste persone e le difficoltà dei familiari accuditori, caregiver, in maggioranza donne che sopportano pesanti costi. In estrema sintesi, non ci sono diritti esigibili, cioè assolutamente certi perché le risorse sono quelle disponibili a legislazione vigente. Sono esclusi dal Servizio Sanitario Nazionale gli anziani malati cronici non autosufficienti e marginati in un nuovo contenitore ghetto, il sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente che interviene solo per i poveri. Non ci sono previsti nei LEA assegni di cura per le cure domiciliari, c'è un attacco al diritto dell'indenità di accompagnamento, c'è il rischio concreto di vedersi negare il diritto esigibile a ricovero in convenzione in RSA. In particolare il DDL non autosufficienza prospetta l'istituzione di una SNA, Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana Non Autosufficiente al quale destinare tutti i malati anziani non autosufficienti in sostanza una alternativa emarginante e senza diritti universalistici rispetto al Servizio Sanitario Nazionale per le esigenze di cura di lunga durata. Contiene l'assalto al diritto oggi esigibile universalistico e non vincolato all'ISE o ai redditi disponibili all'indenità di accompagnamento unico risarcimento certo dello Stato erogato al solo titolo della minorazione legge 18 del 1980 per chi dipende in tutto e per tutto dall'aiuto di altri per le funzioni vitali non prevede un adeguato impegno strategico per potenziare l'offerta di supporti domiciliari tutelari negli atti della vita quotidiana per gli anziani malati non autosufficienti non prevede alcun rafforzamento dei LEA livelli essenziali di prestazioni sanitarie e sociosanitarie né più diritti entro Servizio Sanitario Nazionale per gli anziani malati non autosufficienti il DDL prospetta un sistema nel quale gli interventi domiciliari mirati alla cura e alla tutela negli atti della vita quotidiana dei malati e prevedibilmente delle persone con grave disabilità non autosufficienti debbano essere compito dei servizi sociali o delle famiglie nel modello così delineato afferente al solo comparto sociale imporrebbe nuovi e maggiori oneri agli enti locali non prevedendo risorse aggiuntive con cui farvi fronte per quanto sopra i firmatari della petizione intervenire sul DDL a tutela dei non autosufficienti chiedono ai presidenti della camera dei deputati del senato della repubblica alle commissioni parlamentari competenti sul DDL non autosufficienza al consiglio dei ministri nonché ai ministri della salute e del lavoro delle politiche sociali che il tempo venga che il testo venga opportunamente emendato al fine di salvaguardare il carattere universalistico del servizio sanitario nazionale destinato a tutti i malati compresi quelli non autosufficienti e come previsto dalla legge 833 del 1978 senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio salvaguardare l'indenità di accompagnamento erogata solo titolo della minorazione per chi dipende in tutto e per tutto dall'aiuto di altri per le funzioni vitale sancito dalle leggi 18 1980 confermare il mantenimento della titolarità sanitaria della programmazione e del finanziamento delle prestazioni sociosanitarie in ambito LEA domiciliari semi residenziali e residenziali nonché l'esigibilità e l'aumento degli interventi sanitari a domicilio infermieristici diagnostici come la radiologia domiciliare i prelievi per gli esami e riabilitativi destinati anche ai malati non autosufficienti formalizzare come diritto esigibile sotto la titolarità del servizio sanitario nazionale ILEA e con una sua compartecipazione finanziaria di un contributo per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani malati non autosufficienti per esempio aiuto per la messa a letto e all'alzata accompagnamento all'utilizzo del bagno o pulizia e igiene personale per chi ha incontinente preparazione di alimentazione adeguata e o imboccamento aiuto nella vestizione monitoraggio e somministrazione della terapia è evidente che laddove ci si riferisce a soggetti non autosufficienti debba sempre essere esplicitata la loro condizione di malati cronici in quanto la non autosufficienza è sempre conseguente alla perdita di salute a causa di malattie croniche invalidanti irreversibili o da loro esiti la legge 328 del 2000 e il fondo per la non autosufficienza articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 numero 296 in base alle quali leps sono interventi aggiuntivi rivolti agli anziani malati cronici non autosufficienti che ai sensi del primo comma dell'articolo 38 della costituzione hanno diritto di chiedere prestazioni socioassistenziali contributi paste domicili aiuto domestico eccetera o sociali abitazione a condizioni agevolate attività socializzanti aiuto alla mobilità eccetera erogati dai comuni singoli o associati nell'ambito delle risorse disponibili questo è un interesse legittimo ma con il DDL non autosufficienza non è un diritto esigibile in quanto non sono previsti fondi per gli anziani malati cronici non autosufficienti la competenza primaria è della sanità e quindi della missione 6 per quanto concerne il PNRR è il servizio sanitario l'AS che deve garantire la presa in carico con le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di sua pertinenza a tutti gli anziani malati cronici non autosufficienti e quando necessario assicurare coordinamento e collegamento con il settore delle politiche sociali ovvero l'accesso ai LEPS previsti dalla missione 5 per chi ha diritto alle prestazioni socioassistenziali non si può proporre una riforma dal basso che verrebbe ad escludere almeno un milione di malati cronici non autosufficienti dal diritto certo ed esigibile dell'indenità di accompagnamento peraltro insufficiente come già motivato a sostenere tutti gli oneri a cui devono far fronte per assicurarsi le prestazioni atte a soddisfare le funzioni vitali è necessario ed importante il coinvolgimento dei comuni attraverso un ordine del giorno da presentare in consiglio comunale affinché il testo del DDL che è stato inviato alle camere per la discussione con la prospettiva dell'approvazione di un testo di legge delega al governo venga opportunamente emendato al fine della salvaguardia del carattere universalistico del servizio sanitario nazionale destinato a tutti i malati compresi quelli non autosufficienti e come previsto dalla legge 833 del 1978 senza distinzione di condizioni individuali o sociali secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio e dell'indenità di accompagnamento erogata solo titolo della minorazione della conferma e mantenimento della titolarità sanitaria e della programmazione del finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie in ambito LEA domiciliari semi-residenziali e residenziali della formalizzazione come diritto esigibile sotto la titolarità del servizio sanitario nazionale e con una sua compartecipazione finanziaria di un contributo per la tutela negli atti della vita quotidiana con il seguente meccanismo la valutazione individuale la valutazione individua un grado in quei minuti Silvia sì grazie allora la valutazione individua un grado di non autosufficienza abbinato ad un budget di cura da usare si compone il budget di cura con il 50% del servizio sanitario nazionale non soggetto a valutazione ISE e 50% di utente e o comuni si trasforma il budget nell'intervento che è più utile in quel momento potendo modificarlo nel tempo sul modello di ciò che accade per gli inserimenti in RSA alla base c'è una considerazione importante da valutare è che la popolazione anziana necessita di interventi di prevenzione per ridurre l'incidenza di malattie con l'aumento della durata della vita gli anziani sono affetti da pluripatologie croniche da cui deriva in molti casi la loro condizione di non autosufficienza in primo luogo quindi si avanza la richiesta che laddove ci si riferisce a soggetti non autosufficienti sia sempre esplicitata la loro condizione di malati cronici in quanto la non autosufficienza è sempre conseguente alla perdita di salute a causa di malattie croniche invalidanti irreversibili o da loro esiti questa è una precisazione di rimente per rientrare a pieno titolo nella titolarità del servizio sanitario nazionale e dai diritti esigibili alle cure sanitarie e sociosanitarie garantite dalla legge 833 e dai LEA servizi e prestazioni residenziali e residenziali inoltre nel DDL non autosufficienza si legge che intende dare attuazione all'obiettivo del PNRR relativo alla missione STREI per la realizzazione delle case di comunità la presa in carico della persona e potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali ospedali di comunità che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana nella realtà le case di comunità sono strutture vuote mancano i medici che potrebbero lavorare tramite cooperative private mentre invece dovrebbero essere assunti tramite il servizio sanitario nazionale in collegamento con i servizi del comune in merito ai bisogni delle persone che vivono in quel territorio inoltre ci starebbe uno spreco delle risorse per gli ospedali di comunità a condizione infermieristica per brevi periodi per persone che non abbiano un grave stato di salute non sono strutturati per persone non autosufficienti in pratica la persona anziana ha il diritto alle cure sanitarie nel territorio e negli ospedali con una presa in carico dal momento iniziale della malattia e per tutto il periodo che sarne grazie Silvia ti abbiamo fatto correre mi rendo conto che è un testo molto corposo era necessario non potevo tagliare niente assolutamente assolutamente ricordo a tutti che Nicoletta ha mandato il link di fermiamo il DDL non autosufficienza in chat lo vedete lì e per chi vedrà questa registrazione lo troverà nei nostri canali lo metteremo in chiaro grazie Silvia passiamo ora a Silvana Cesani che ci racconta appunto dal comune di Lodi l'apertura degli sportelli per l'autosufficienza no? no? Lea ha fatto un casino scusate peri Lea peri Lea ok con la rete lodigiana di Solidar anche tu 20 minuti sì prima di entrare nel merito di questa esperienza mi era stato chiesto di dire due parole sul perché ho come consigliera comunale dal mese di luglio quindi da pochi mesi una delega specifica sulla sanità e la medicina territoriale che è una roba un po' strana per un comune insomma di solito si si lavora sul welfare la sanità ampiamente dimenticata allora questa delega non nasce o questa opportunità a cui non avevamo prima pensato venuta fuori dopo non nasce dal nulla nasce dal fatto che durante la pandemia ci sono state tre condizioni essenziali una nell'odigiano è nato il coordinamento lodigiano per il diritto alla salute due come lista civica di cui io faccio parte l'odio comune solidale abbiamo lavorato sul tema della sanità per anni tre abbiamo lavorato molto in campagna elettorale sul tema della salute affronto questi tre temi allora durante la pandemia dicevo è nato il coordinamento lodigiano per il diritto alla salute formato da molti comitati a livello di provincia di Lodi il comitato per la difesa degli ospedali di Casale Codogno le Acri la CGL rifondazione comunista altre associazioni medicina democratica locale altre associazioni e soprattutto un po' di cittadini e cittadine della provincia questo coordinamento in piena pandemia ha fatto vado solo per titoli un protocollo per la difesa dei diritti dei lavoratori concordato con la prefettura di Lodi vi ricordate il tempo che mancavano le mascherine eccetera eccetera è stato fatto un protocollo che era molto ingiuntivo e che è stato visto in prefettura Lodi è stato fatto uno studio comparativo tra la situazione che c'era in precedenza nella rete ospedaliere nei servizi territoriali con il venir meno di tutta una serie di servizi per poter dire poi che cosa dovevamo andare a rivendicare è stato fatto uno studio approfondito sulla questione delle liste di attesa e quindi sono stati aperti i primi sportelli LEA di cui vi parlo dopo abbiamo fatto molti volantinaggi presidi due grandissime manifestazioni molto partecipate una Lodi e una a Codogno scusate una Casale e una Codogno contro questa situazione di chiusura di una serie di reparti ospedalieri e delle liste d'attesa lunghissime e abbiamo partecipato al coordinamento più ampio quello nazionale per il diritto alla salute e quello regionale soprattutto gestito da Medicina Democratica questo è il primo presupposto da cui nasce questa delega quindi questo lavoro di due anni precedenti il secondo presupposto è stata la costituzione della lista civica l'Odi Comune Solidale io avevo fatto l'assessora per questa lista civica dal 2013 al 2016 e un pezzettino anche prima poi non erano più stati in Consiglio Comunale ma abbiamo tenuto aperta la sede con grossi sacrifici e abbiamo lavorato molto sul tema della sanità perché lo sentivamo come un problema emergente sentito dalla popolazione e quindi abbiamo continuato a lavorare abbiamo fatto delle mostre abbiamo fatto iniziative con Medicina Democratica assemblee pubbliche con Agnoletto insomma abbiamo fatto dei lavori vertenziali insomma non abbiamo mai smesso dal 2016 al 2022 di intervenire sul tema della sanità terzo punto abbiamo lavorato molto in campagna elettorale su questa questione ma sollecitati dai cittadini e dai cittadini che venivano a porre il problema cioè l'abbiamo sentito come il problema se non principale uno dei problemi principali della città tant'è che nella definizione del programma elettorale abbiamo puntato e soprattutto spuntato il fatto che il grosso del del programma è centrato sul welfare di comunità e sul tema della salute e quindi già lì nel programma abbiamo messo tutta una serie di indicazioni di carattere operativo che poi il sindaco di Lodi ha dovuto prendere in mano e cominciare a lavorarlo dal punto di vista della realizzazione cioè tutte le cose che adesso stiamo mettendo in atto sono previste dal programma elettorale e sono una conseguenza quindi sono tre i presupposti per cui questa delega non nasce da nulla ma da un lavoro di due anni insomma nel coordinamento territoriale in Lodi Comune Solidale e nella campagna elettorale allora a luglio 2022 quindi l'anno scorso il sindaco mi ha proposto io sono stata eletta come consigliera comunale di questa lista e il sindaco mi ha proposto di fare di avere una delega particolare si chiama per seguire il tema della sanità e della medicina territoriale una delega molto forte che assomiglia quasi a una delega assessorile in cui mi si dice che ho l'autorità di assistere il sindaco negli incontri istituzionali e lo rappresento in via fiduciaria nelle varie interlocuzioni con i dirigenti ASST ATS tutta l'apparato tecnico amministrativo di questi enti quindi una delega sicuramente sicuramente forte ecco devo dire che non c'è da farsi illusioni ovviamente perché il comune non ha un ruolo diretto una competenza diretta nelle materie sanitarie che è un po' una forzatura ma l'abbiamo voluta pensare e agire perché il sindaco lo ricordo è il massimo tutore della salute dei cittadini cioè lui ha la responsabilità diretta sulla tutela della salute dei propri cittadini e quindi abbiamo detto proviamo a giocare questo ruolo uno perché guardate i sindaci non sanno nulla ma nulla dei temi sanitari e forse adesso la dico grossa non è che ne importa molto insomma diventa un tema aggiuntivo a tanti problemi che oggi i comuni devono affrontare e questo viene messo in seconda battuta allora uno degli obiettivi è strumentare i sindaci a partire in modo che attraverso il sindaco di Lodi possano gestire un ruolo di dialogo non dico alla pari ma comunque un dialogo un interlocuzione che abbia che parta da una conoscenza da un sapere e che possa giocarsi nelle interlocuzioni con le dirigenze ASST ATS l'altra cosa ci siamo posti l'obiettivo di far crescere la partecipazione dei cittadini per arrivare poi a una consulta un organismo di partecipazione sulla falsariga di quello che ha fatto De Magistre San Napoli in modo tale da fare in modo che dalla città nasca un sapere un sapere condiviso una capacità contrattuale e nei confronti dell'amministrazione comunale e nei confronti soprattutto dalla dirigenza ASST ATS che cosa ho fatto fino adesso in questi sei mesi e qual è il programma allora la prima cosa che ho fatto ho cercato di costruire allora io ho una professionalità di carattere sociale di sanità so poco o niente cioè nel senso che so le cose che hanno a che fare più sul socio sanitario mi sto inserendo in un mondo che non è una mia competenza e che di cui mi sto facendo le ossa con molta difficoltà devo dire perché è una materia complessa quindi sono partita con il cercare di farmi un quadro di conoscenze reali della situazione di 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 lodi città insomma e di lodi città e un po' della provincia cosa sta succedendo appena è uscita sui giornali la questione della delega si è creata un'aspettativa che direi quasi magica che il comune di lodi potesse invertire la rotta della situazione sanitaria dell'odigiano sono stata a luglio agosto tempestata di richieste di incontri da parte di medici e infermiere infermiere che ho incontrato nei posti più lontani dal centro perché c'è una paura grossissima a denunciare a tirar fuori le cose insomma per cui c'è stato questo sfogatoio grosso durato un paio di mesi insomma cui ho sentito parecchie persone parecchi professionisti che mi hanno fatto un'idea delle gravi carenze degli ospedali il fatto che non c'è una visione strategica nella dirigenza c'è stata una distruzione di interi reparti di ospedale tra l'altro la dirigenza ce l'ha regalata Antonio Muscolino speriamo di restituirle alla svelta perché il suo il direttore generale San Paolo San Carlo San Paolo è arrivato da noi e lui mi aveva già avvertito e devo dire che non pensavo a una tragedia così grossa comunque ad oggi guardate da quando c'è questa dirigenza quindi da tre anni in questa parte sono andati via 700 professionisti tra medici infermieri e ossa 700 su 2500 quindi la dice lunga sul malessere di questa situazione adesso non ve la faccio lunga ma sono spariti il reparto nefrologia la cardiologia l'ortopedia è stata chiusa l'ostetricia Codogno un disastro pazzesco nella nostra rete territoriale avevamo quattro ospedali adesso abbiamo due ospedali per acuti e due che sono semi poliambulatori insomma nel senso che ci sono state aperte le case di comunità ma sono delle targhette dentro io sono andata a vederle tutte e due sono la messa insieme in un reparto a Sant'Angelo e in due reparti a Casa Pusterlengo di tutto quello che c'era in giro nei sei piani dei due ospedali sono stati ficcati lì e chiamati casa di comunità quindi ci sono tutte le specialità che lavorano come prima gli ambulatori che lavorano come prima senza che si parlino assieme senza che non ci sia un'idea di di lavoro comune di multiprofessionalità eccetera la cosa che volevo sottolineare è che queste cose purtroppo non stanno succedendo solo a Lodi come ha fatto vedere anche Antonio prima c'è un processo di privatizzazione molto alta nella sanità lombarda ma il 45% del bilancio della sanità della regione lombardia è dato al privato convenzionato e al privato e quindi si sta trasformando ma questo è un percorso che stanno facendo anche altri altri ospedali c'è una distrutturazione in atto del servizio sanitario nazionale se avete visto e ve lo consiglio se non avete visto di andare a recuperare la trasmissione report sugli ospedali sulle case di comunità tutta la procedura che vi ho detto adesso di distruzione di reparti di interi reparti di interessezioni eccetera eccetera sta succedendo anche da altre parti c'è una carenza grossissima di medici di medicina generale e di medici specialisti che è allarmante Antonio aveva fatto vedere quei grafici di data room succede a Lodi ma succede soprattutto a Milano che vengono presi al posto di medici da noi sono andati via i 700 che sono andati via sono tutti i professionisti di qualità tutti quelli che facevano dell'ospedale di Lodi di Codogno l'essenza sono sostituiti da personale in convenzione da noi non ancora le cooperative ma da quelle strane convenzioni per cui hanno un rapporto di lavoro di 12 ore in genere nel weekend continuative prendono 100 euro 100-150 euro all'ora a gettone si portano a casa più di 1000-1200 euro per turno e poi spariscono e quindi non creano nessun legame con la struttura con i nostri ospedali questi vanno vengono non si collocano dentro nelle relazioni con gli altri eccetera eccetera quindi davvero una cosa guardate che in regione Lombardia questi buchi di organico che da noi sono drammatici ma sono drammatici da tutti praticamente sono ormai 45.000 i turni gestiti da cooperative di cui 14.600 nei pronti soccorsi e altri nelle altre specialità che sono l'ortopedia la cardiologia cioè quindi tutta gente che va che viene e che opera così senza avere una relazione un pensiero una strategia un investimento sulle cose che sta facendo la carenza di medicina ecco una cosa importante è che lavorando in questi termini un medico si porta a casa per è stato fatto dalla Gabanelli per 84 turni in un anno 87.000 euro lo stesso medico dipendente per 267 turni si porta a casa 85.000 euro ecco a questo punto ci chiediamo non chiediamoci più il perché uno scappa dall'ospedale e va o in prepensionamento o in dimissione volontaria e poi va a lavorare in questa maniera qua o i giovani vanno a lavorare in questa maniera qua insomma c'è una carenza molto forte di medicina generale che è un fenomeno che scoppierà se non aprono le possibilità per l'università di aprire numeri da noi un sindaco di un comunello piccolo di 4-5.000 abitanti ieri o l'altro ieri in televisione Tg3 regionale ha denunciato che non ha più un medico di base e i suoi pazienti devono andare cosa ha fatto la SST gli ha detto che c'è un medico a 20 chilometri che ha 1400 pazienti quindi può prendersi anche i pazienti di questo comune e lui dice e io mando i miei anziani a 20 chilometri per avere un medico ma questo sarà quello che succederà se succederà così è ancora positivo può essere anche che non avremo più i medici in medicina generale diminuisce il fondo 5 minuti diminuisce il fondo del nazionale della sanità di fatto la Miloni si vanta di aver aumentato di 2 miliardi il fondo ma questi 2 miliardi sono ampiamente non sono neanche serviti per le spese l'aumento delle spese energetiche quindi di fatto il nostro fondo sanitario continua a diminuire e siamo tra gli ultimi posti per spesa sanitaria rispetto al PIL in regione in Italia l'altra cosa che ho fatto è avviato un gruppo di lavoro per fare un documento politico amministrativo in base al decreto 70 che non ricordo più Antonio di che anno sia del 20 o 21 che definisce le prestazioni il numero e la qualità delle prestazioni ospedaliere abbiamo chiesto a SST e a TS facendo gli incontri col sindaco io il sindaco e questo gruppetto di lavoro con i due dirigenti a SST e a TS per avere una serie di dati a TS si è resa disponibilissima a dicembre non ce l'ha ancora dato uno a SST l'altro giorno volevamo andare via dalla riunione perché il sindaco è stato bistrattato dal direttore generale Gioia e se fossi stato il sindaco mi sarei alzato mandandolo tal paese lui è molto più educato di me è stato lì a farsi insultare quindi non sappiamo se ci danno questi dati che sarebbero importanti perché un documento politico amministrativo ci permetterebbe di dire qual è la qualità lavorare sulla qualità e non solo sui numeri ma sulla qualità delle prestazioni che vengono erogate e negli ospedali e nei servizi territoriali abbiamo deciso di fare un focus sulla questione dei tumori perché è uscita un'ulteriore ricerca a novembre dall'Università di Bologna che dice che la provincia di Lodi è il primo territorio per incidenza di mortalità per tumori mettendo insieme i parametri inquinamento ambientale e condizioni socio-economiche abbiamo la disponibilità dell'Università a collaborare abbiamo un assessorato all'ecologia che è dei verdi e quindi potremmo fare avendo questi dati del registro tumori da Dipavia un lavoro di prevenzione a partire dall'inquinamento atmosferico più su vari altri ambiti comunque questo è un focus di lavoro l'ultima questione è la consulta sulla salute vogliamo fare appunto come ha fatto Napoli un organismo di partecipazione se non è la consulta un organismo di partecipazione per far nascere dal basso la consapevolezza che la tutela della salute è un bene che dobbiamo prenderci in mano tutti e tutte perché altrimenti se deleghiamo questa cosa qua almeno a livello locale viene persa stiamo lavorando sto cercando con l'assessore l'Odico Comune Solidale ha preso un assessorato abbiamo voluto solo non abbiamo voluto il welfare non abbiamo voluto altre cose abbiamo voluto istituire un assessorato alla partecipazione c'è una nostra amica che si chiama Maria Rosa De Vecchi che arriva dalla presidenza di una cooperativa sociale e con lei stiamo lavorando per delle case di comunità che non siano delle case di comunità ambulatoriali come quelle che ha fatto la SST che ha inaugurato e che farà ma che sono delle case della comunità sulla falsariga degli organismi che hanno messo in piedi a Trieste che quindi che siano dei luoghi di socializzazione che si prendono cura anche dei problemi sociosanitari di quell'ambito di quel quartiere e quindi non sono i bisogni ma sono i bisogni che quel quartiere esprime e quindi stiamo lavorando con un altro gruppetto di persone compreso l'Ausvol che è il Centro Servizi di Montariato questa roba qua fuori dalla delega del comune c'è come l'Odi Comune Solidale abbiamo aperto insieme alle ACLI alla CGL Rifondazione e ai comitati degli ospedali Casale Codogno lo sportello Lea in quattro paesi l'Odi Casale Codogno l'Odi Casale Codogno e tre paesi perché l'Odi ne abbiamo due uno in CGL e uno l'Odi Comune Solidale abbiamo fatto un manuale che prevede la possibilità di fare delle lettere di denuncia al direttore SST per il non rispetto dei tempi per ogni tipologia di richiesta di visita sanitaria o di prestazione diagnostica abbiamo fatto 15 vertenze nel momento in cui mandi questa lettera il giorno stesso se non il giorno dopo la persona viene chiamata e mentre prima aveva sei mesi di tempo per di aspettare il giorno stesso alla visita il nostro obiettivo è che attraverso questo lavoro vertenziale sia garantito il diritto individuale ad avere il rispetto dei tempi di attesa qualsiasi sia il livello di attesa urgenza semiurgenza programmazione eccetera che sia quella visita sia fatta nel territorio della nostra provinta della nostra SST che sia nel settore pubblico l'obiettivo è che alzando il numero delle vertenze individuali si possa arrivare a una vertenza di carattere trasformare l'avvertenza individuale in una vertenza collettiva una cosa non facile perché purtroppo le persone hanno paura a fare queste cose e quindi non troviamo il materiale sufficiente per fare il salto di qualità ecco queste sono un po' le cose messe a tema in questo periodo finito grazie Silvana precisissima nei 20 minuti se ci sono delle rapidissime domande perché siccome siamo state brave ci prendiamo la possibilità di sforare un po' di ritardo altrimenti possiamo anche salutarci visto che insomma un'ora e mezza l'abbiamo passata densamente è volata ma ci portiamo a casa un fardello carichissimo vedo Nicoletta con una mano fisica e una virtuale alzata c'è due domande semplicissime una che è proprio semplice semplice ad Antonio se mette a disposizione le slide complete cioè in maniera tale che poi possiamo farle circolare quantomeno al nostro interno ma soprattutto alle persone che ci sono qua oggi che magari sono interessate quindi se ce le puoi mandare un link un qualcosa completo e poi invece una domanda mi pare semplice anche questa alla Giuliana Beltrame cioè ho capito bene che il progetto di autonomia differenziata non passerà dal Parlamento ma potrà essere approvato extraparlamentarmente con un semplice decreto della Presidente del Consiglio Sì esattamente così il Parlamento deve praticamente semplicemente diciamo deliberare che questo intesa definitiva è approvato e va bene ma non produrre un atto legislativo quindi il Parlamento è ridotto a un mero organo amministrativo e questa è la gravità della cosa perché per quanto abbiamo magari perplessità sulla composizione e il funzionamento del Parlamento così com'è cioè questo è un attacco diretto a quelle che sono le funzioni dei vari organi della nostra Repubblica e quindi avvia a mio avviso è in linea con i progetti di presidenzialismo e quindi scusa se faccio un'altra domanda semplice e quindi il capo dello Stato non avrebbe Mattarella non avrebbe nemmeno la possibilità di segnalare che c'è qualche no non c'è una legge è un decreto e quindi non d'altra parte non c'è un rischio che possa essere fermato io speravo che magari le contraddizioni interne alla maggioranza potessero in qualche modo limitarne c'è la no non sarà c'è no perché prima scusa c'era qualcuno forse che voleva intervenire io no volevo solo dire che ha aperto una campagna attraverso sbilanciamoci per la raccolta di firme contro questa più che contro l'autonomia differenziata per la modifica dell'articolo della Costituzione 116 117 per fare appunto per sostenere che non ci sia l'autonomia differenziata insomma e quindi no correggo ecco sì scusami magari glielo tu bene ecco ma scusa è il progetto presentato dal Davillone dentro il Comitato per la Costituzione che è un progetto di legge di iniziativa popolare che vuole un altro tipo di autonomia differenziata cioè che vengano escluse una serie di definizioni presenti nell'articolo 116 ma ecco è un problema anche questo primo perché è un progetto di legge che si affida a questo Parlamento e quindi senza nessun sponsor diciamo che lo faccia proprio ma questo anche potrebbe non essere ma è nell'ottica che l'autonomia differenziata può essere un po' migliorata io ho dei dubbi su questo pur facendo parte del coordinamento per la Costituzione ho dei dubbi perché credo che siamo già oltre siamo già oltre il decreto Calderoli è un'altra cosa e quindi quello passerà non l'eventuale progetto di legge di iniziativa popolare tutto qua grazie per aver chiarito perché non avevo capito grazie grazie anche per me Giulio a voi Antonio sì niente volevo soltanto dire una cosa soprattutto relativamente a quello che si sta cercando di fare allora innanzitutto ribadisco quello che quello che ho detto nell'ultima nell'ultima parte che secondo me magari si potrebbe vedere di cercare di organizzare qualcosa a livello territoriale soprattutto facendo leva sulle case di comunità poi giustamente come diceva Silvana io credo che anche i sindaci devono essere proprio diciamo così stimolati ecco a fare determinate cose e andare anche al di là di quelle che sono di quelli che sono i paletti ufficiali perché il sindaco secondo me può avere questo tipo di possibilità anche e soprattutto nei confronti dei direttori generali innanzitutto ma anche ma anche diciamo così per sollevare nella popolazione diciamo un certo tipo un certo tipo di così di interesse ecco io credo che fare in modo che le case di comunità vengano monitorate vengano diciamo così gli si stia un po' con il fiato sul collo credo che possa essere uno degli elementi maggiori per almeno cercare di fare qualcosa l'altra cosa che volevo dire è così una comunicazione di servizio diciamo allora stiamo cercando di organizzare un'iniziativa che dovrebbe tenersi a Milano in Piazza Duomo il primo di aprile stiamo cercando di contattare il maggior numero di realtà associative comunque che si vogliano mobilitare per questa cosa sarà chiaramente per nuovamente sollevare il problema della privatizzazione della sanità in particolar modo in regione Lombardia e diciamo la data non è una data presa a caso perché rientra all'interno delle altre iniziative che verranno fatte a livello europeo qui vi faccio vedere il così la diciamo il volantino tra virgolette della delle iniziative europee che verranno che verranno portate avanti per il 7 di aprile sapete che il 7 di aprile è la giornata internazionale della salute perché era la data in cui è nato l'organizzazione mondiale della sanità e noi ogni anno ormai da diverso tempo in quelle giornate cerchiamo di sottolineare il fatto che il problema è invece la privatizzazione della sanità pubblica in generale e comunque della sua mercificazione per cui niente vi chiedo innanzitutto al limite di prendere contatti o con me con Medicina Democratica per vedere se anche voi siete interessate a partecipare a questa cosa del primo di aprile e niente vedere insomma di mobilitarci non dico di fare quello che è accaduto sia in Gran Bretagna che in Spagna perché purtroppo non ne vedo attualmente le forze però credo che possa magari essere diciamo così un momento per ricordare le persone che cosa significa perdere un servizio sanitario nazionale grazie volentieri ci rendiamo piattaforma di rimbalzo per tutte le attività dei primi giorni di aprile Giuliana ha richiesto la parola prego eh sì velocissimo anch'io ho una comunicazione anche in Veneto stiamo vivendo questa situazione drammatica rispetto al discorso sanità pubblica non vi dico a Padova ma c'è un coordinamento Veneto sanità pubblica che ha previsto per il 15 aprile a Vicenza una manifestazione regionale proprio a difesa della sanità pubblica perché in Veneto si stanno si sta profilando l'uso proprio sconsiderato dei fondi del PNRR che sono indirizzati a costruire nuove strutture e saranno vuote perché manca il personale e il personale non c'è e quindi c'è questa grossissima preoccupazione a parte la politica sanitaria che anche la sanità veneta copiando quella lombarda sta facendo danni ecco volevo solo avvertirvi di questo che qualcosa si muove anche anche qua in qualche modo Barca grazie mille a tutte e a tutti quindi se non ci sono altre domande altre comunicazioni fatelo ora o taccete fino alla prossima volta perché stiamo per chiudere noi volentieri sul nostro sito e sui nostri canali social metteremo le comunicazioni appunto delle attività che sono in programma per aprile e la piattaforma dove si può andare a firmare contro l'approvazione del DLL sulla non autosufficienza di cui ci parlava Silvia io niente vi ringrazio e vi saluto grazie a tutti e alla prossima grazie grazie a voi ciao 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 ciao